ciao bella a tutti i ragazzi eccoci tornati su crash of clans ho potenziato una caserma fino a livello 11 adesso mi posso fare anche i cuccioli di drago aggiunti da clash royale anche il minatore uguale e adesso faremo una battaglia eccoci animale attacco porca bocca che potenza da solo che figata incredibles speriamo che regga che regga tanto ma se io ne mando giù uno un altro succede qualcosa dai 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 giù una torre è praticamente è morto questo ne ho otto vai giù qua sono in due non va bene dai cosa vai sul sull'estrattore che muori ma adesso se vado all'altra basta butto giù qualcos'altro ma dai vediamo come muore bruscamente però ci libero un po' il passaggio oh che bello oh che bello di nuovo no dai per un colpo non ci credo dopo la tecnica dell'altra perché mi sto stufando con tutti i drive cavoli mi sono menticato di poter fare le pozioni oh oh questo non va bene ma non fa neanche tanto danno strano oh adesso vediamo contro no c'è il volano che ci spinge via che poi no non è vero strano eccoci tornati abbiamo già fatto una stella il tempo sta per finire non è valido ci mette troppo quello giù 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 devasto all'ultimo momento due stelle e non ce la facciamo a farne un'altra è sicuro come la morte meglio non lo dico vai 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 madonna che devasto all'ultimo momento ho buttato giù un po' di mura c'è una nuova torre e un'altra torre della cera questo è tutto per questo puntato ci vediamo alla prossima ciao